A scopo per cauzionare il Ministero della Salute ha richiamato diversi marchi di uova fresche d'allevamento a terra per rischio microbiologico. Potrebbero essere a rischio di contaminazione da salmonella. Sul sito web del Ministero della Salute, nella sezione richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sono anche riportati i numeri dei lotti interessati e dai richiami da parte del produttore Cascina Italia in provincia di Bergamo. Tra i marchi richiamati pubblicati nella giornata di ieri, Cascina Italia, Smart vendute da S. Lunga, Ovo Novo, Delizie dal Sole vendute da Eurospin, Lactis, Parmalat, Latteria di Chiuro, Gesco, Amaduri, Conad e Deltcampo. La raccomandazione riportata dal Ministero alle consumatrici e consumatori, eventualmente in possesso, è quella in primis di non consumare il prodotto, ma anche di non buttarlo, piuttosto di restituire le uova al punto vendita in cui sono state acquistate.